Allora Fabio Leonardi, io so che da voi in azienda c'è una persona che è dedicata alla valorizzazione del vostro prodotto sul territorio Novara. Sì, è stata presa appositamente perché io credo fortemente che Novara è identificata come la città del Gorgonzola, però bisogna essere profitti in parte, nel senso che a Novara si deve trovare in tutti gli esercizi, dalla pizzeria al ristorante cinese, al ristorante stellato e in tutti i negozi il miglior gorgonzola che i produttori riescono a fare. Per far questo abbiamo preso una persona che lavora esattamente in questo canale, ma soprattutto che propone il top di gamma che lei assaggia tutte le mattine. Lei da 7-8 anni prende gli ordini dagli operatori del territorio, quindi nei vari mercatini rionali, come già detto, ristoranti, pizzerie, negozi specializzati, assaggia il prodotto, lo consegna, sente i commenti e diventa l'elemento motivazionale per l'utilizzo del gorgonzola anche nelle ricette, ma soprattutto nei menù. Quindi è molto importante per me che chi viene a Novara e sa che questa è la patria del gorgonzola, deve trovare nei ristoranti il nostro Gran Riserva Leonardi, deve leggerlo sui menù, bisogna poterlo usare, ma per far questo bisogna stimolare gli operatori. E noi questo è proprio l'obiettivo che abbiamo voluto raggiungere, cioè l'obiettivo che volevamo raggiungere e l'abbiamo fatto, nel senso che oggi anche in qualsiasi pizzeria si trova esattamente un gorgonzola di livello altissimo, come nei migliori negozi, nei migliori mercatini rionali e anche nei ristoranti dove da noi in Italia, ma anche in questa zona, non si usa più fare il classico carrello dei formaggi, che diciamo è diventato un po' obsoleto come modo di proporlo, però il gorgonzola magari su un tagliere come Antré o all'aperitivo, anche nei bar novaresi, cioè bisogna sapere usare e questa persona fa questa attività da sempre e devo dire che ci sta dando soddisfazione, perché il gorgonzola adesso veramente a Novara in tutte le location dove si fa l'istorazione c'è un prodotto di altissimo livello e questo è quello che era il nostro obiettivo.